Come sapete, Alessandro, a Rummenico senza pesce, subito fornisce, capito com'è? Quindi noi ragazzi, oggi facciamo vincere quattro persone e quattro spese in omaggio, da 25 euro ciascuno. E pesca, mio fratello Alessandro. Vai Ale, pesca. Vai Ale, vai. Ma dove mi ha pesca? Vai Ale, vai. M'è pesca buono, Alessandro. Vai, prendi il primo numero. Vai, vediamo chi vince il primo numero. Vediamo chi ha vinto, vai. 65. 65. Uè, ragazzi. Ma bene Ale, avete vinto 25 euro. Poi dopo la cassa avete vinto 25 euro. Prego, accomodate. Non ti ho aspettato. Adesso vediamo il secondo numero, vai. Vai, pesca. Vai, pesca. Pesca, 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 pesca. Vai, pesca, vai. Prendi il numero, prendi il numero. Prendi il numeretto. Vai Ale. Vediamo un po' per il secondo numero. Attenzione. 66. 66. 66. 66. 66. 66. Venga, venga. Vengono, vengono. Andiamo con me, andiamo con me. Peppe 66, grazie amico mio, Ale pesca il tezzo numero, vai, vai Ale, vai, prendi direttamente, vai, prendi il numero, vai Ale, vai, vediamo un poco, tezzo estratto, chi vince, vediamo, vediamo, 21, 21, vai, da dove vieni? Amarone, Amarone con noi, vinto 25, ultimo estratto, vai Ale pesca, ultimo, vediamo un poco, vediamo, vediamo, vediamo chi vince,